e questo non è giusto Antonio faceva il tecnico informatico da quando ha perso il lavoro fa il rider alla partita IVA ma con le paghe ridotte non riesce a rientrare nelle spese abbiamo anche molte ore del lavoro che non vengono pagate ecco i risultati di Maio quando ero ministro del lavoro tutela tutela esclusivamente a Cottimo senza nessuna tutela senza un minimo orario quindi senza ferie sciopro dei rider questi sono i risultati di Maio tutela chi? tutela i lobby, tutela i piani della masoneria tutela la dittatura contro i cittadini ma andiamo a casa votiamo no al prossimo referendum contro le missioni parlamentari dei piani di Riccio Gelli portati avanti al di Maio da tutti Salvini, Meloni, Berlusconi e che senza le missioni parlamentari si torneranno anche i riti dei rider votiamo no a Di Maio, Zigaretti, Salvini Buonafede, Di Stefano infautori delle missioni parlamentari dei piani di Cio Gelli votiamo no al prossimo referendum